Ciao a tutti e benvenuti su Canale 11. Ecco alcuni programmi che saranno trasmessi nell'arco della settimana. Tutti i giorni sarete diriziati da un originale simpatico meteo, annunciato da dolcissimi bambini tra i 5 e gli 11 anni. E con questo colgo l'occasione per informarvi che il nostro emittente ne accoglie volentieri altri. Per tenervi sempre aggiornati, sarò lieta di comunicarvi quotidianamente l'oroscopo del mese, scoprendo insieme a voi come finirà il 2012. Ogni mattina, dalle 7.30 in poi, vi attende un piacevole risveglio con l'esilarante programma Tributo A, realizzato presso la radio Mac 5 e condotto da Giorgia Lissandri e Simon James. Tutti i giovedì sera, alle 21, sarà trasmesso Lo sapevi che, una curiosa produzione che darà voce all'eccellenza imprenditoriale dell'Abrianza e non solo, e vi presenterà fresche e interessanti idee. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Da Cristina Castelli vi auguro buona visione. Grazie a tutti.